Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con Assassin's Creed Liberation HD. Siamo al porto e ci stiamo dirigendo nuovamente nella palude. Praticamente dobbiamo andare ad informare Agathe e Divasquez. Dopo aver scoperto un piano per attirare il suo mentor allo scoperto, Evelyn va nella palude e decisa a riconquistare la fiducia di Agathe e a tornare nei ranghi della confraternita. Perché sebbene ricordate, come avevamo detto nello scorso video, Agathe ci aveva detto di uccidere, non mi ricordo chi era, se sempre un governatore, qualcosa del genere. Noi non l'avevamo ucciso, l'avevamo graziato, gli abbiamo detto prendi e tornatene, da dove sei venuto e non farti più vedere dovrai vivere in eterno nell'oscurità. Quindi gli avevamo salvato la vita e Agathe non l'ha presa per niente bene. Adesso, oh cacchio, come mai abbiamo tutta questa notorietà? Mamma mia, siamo tutte rosse e più che altro siamo tornati nei vestiti dell'assassina. Quindi andiamo, presumo, dall'amico Agathe a raccontargli questa cosa, più che altro a dargli questa importante informazione, sperando che ci sia riconoscente e più che altro si dimentichi quella brutta storia. Allora, intanto sono tutta zuppa bagnata fradicia, proprio parlo come prima persona femminile, perché ormai mi sono proprio immedesimato nel personaggio di Evelyn, quindi andiamo sicuramente nella sua roccaforte in mezzo alla palude. Più che altro è una bella passeggiata, perché ripartiamo tipo dalla città, e Agathe sta disperso a mezzo proprio alle fratte. Dove cacchio sei? Oh, 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 attenzione, non farti del male, amica cara. Più che altro stai attento se spunta qualche coccodrillo che non si sa mai ci avessero fame. A parte che sei bella macrolina, quindi non so neanche se ti si mangiano. Ecco, siamo quasi arrivati. Ecco là che vedo la tenuta dell'amico Agathe, che poi Agathe è fatto veramente benissimo. La cosa bella di Agathe è il volto con le espressioni, è qualcosa di fantastico. Guardate che giro che sto facendo, perché non trovo un punto dove poter aggrapparmi ed entrare. È proprio un casino. Guarda che cacchio ci sta qua. Scusa. Guarda che giro assurdo per uscire qua. Non trovo un punto di appiglio per entrare nella terraferma. Ok. Forse ci siamo. Qua posso arrampicarmi. Qua c'è una trave. Ce la fai ad andare qui? No. Col cavolo. A capire dove posso entrare. C'è pure... Ah, ok. Il famoso punto di osservazione che non riuscivo a trovare a casa di Agathe. Ok. Vediamo un po' se ci siamo. Eccoci qua, eh. Arriva, amico caro. Allora. Devo fare poi sta scalata. Ma perché mette una scala? Oppure non scende di piano? No, aspetta. Forse è pure a piano terra stavolta la conversazione. Infatti, meno male. Va, vediamo un po'. Il potere dei Voodoo. Rivolta contro i deboli. Le loro stesse superstizioni. Iniziamo il ricordo. Premi L3 per attivare e disattivare l'occhio dell'aquila. Trova Agathe in un minuto. Va bene. Vediamo se ci riusciamo. Ok. Eccolo. Eccolo. Vieni qua. Oh, oh. 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 Cacchia, ma me lo so visto davanti. Ecco, là vedo delle impronte, eh. Di qua. Qua. Regina delle Paludi. Ok, l'abbiamo trovato per fortuna, ma è stata abbastanza semplice. Agathe. Chi? Chi sei tu? Somiglia a una fedele allieva che ebbi molto, molto tempo fa. Ma oramai è morta. Maestro, so che hai dubitato di me. Ma ti prego, non mi sono assentata in vano. Guarda cosa ho qui. Dovevi lasciarlo dov'era. Sai a che cosa serve? Hai forse idea del suo potere? Speravo che tu potessi di... Se tu non l'avessi riportato alla luce, nessuno deve saperlo. Toglilo dalla mia vista. Seppelliscilo e dimenticatele. Fallo a pezzi. Infilano in un nido di alligatori. Non voglio rivederlo mai più. Molto bene. Pensavo l'avresti accettato in segno della mia lealtà. Mi ha... Qualcuno mi ha detto che lo cercavi. Non dovresti farti influenzare da quel che si dice. Ora vai. Devi ascoltarmi, maestro. Sei in pericolo qui. Forse non te lo ripeto già da anni. Inutile vocciosa. È una nuova minaccia, concreta. Un uomo, Vasquez. Lo so bene. Assolda i soldati spagnoli. Ma ho già pronto un piano per fermarli. Ho deciso di sfruttare la loro superstizione. Ti aiuterò. Non posso impedirtelo. Vedrai che... Ti sono davvero leale. D'accordo. Ascolta bene. E cerca di attenerti al piano. Ho piazzato dei simboli che i nostri cari europei troveranno terrificanti. Se seguirai le mie istruzioni, li attirerai di simbolo in simbolo e li eliminerai in silenzio. Così crederanno a una maledizione voodoo. Boh! E poi... La maledizione li spaventerà. Ma basterà a scongiurare nuovi reclutamenti. Altre domande? Pensavo volessi aiutarmi. Ah, finalmente stai zitta. Forza, questo è il momento di agire. Ma non ci tratta bene comunque, Catea. Ancora non si riprende da quella storia. Allora. Andiamo al punto previsto. Dobbiamo fare tutta questa bella missioncina. A spaventare... Oh, oh. Andiamo, andiamo. Non capisco perché rimane sta cosa di trovare a Catea in un minuto. Comunque, va bene così. Ok. Cento... Cento metri presumo alla missione. Andiamo. Anche zona rossa. Che ho due colpi di pistola. Aspettate un po'. Armi, armi, sciabola corta, macete da canna da zucchero. Questa è ignorante. Andiamo con questa, va. No. Andiamo, guatti guatti. Ok. Di radura in radura. 50 metri. 43. Mappa, devo arrivare lassù? Che cacchio. L'ho visto, l'ho visto che è zona riservata. Non mi mettere paura. L'ho visto, l'ho visto. La cosa non promette niente di buono. Ce la fai ad arrampicarti? Qua non ti arrampichi? Devo salire... ...fino lassù. Ok. Allora, vediamo un po'. Un punto per aggrapparci. Allora, eccolo qua. Vai di qua, salta. Vai, vai. Allora, vediamo un po'. Qua non ci va. Gira, gira. Vai sopra i funghietti. Perfetto. Ok. Adesso. Vai qui. Qua. Vai, vai, vai. Sali. Perfetto. Poi. Oh, oh. Attenta, amica cara. Ok. Sali sopra. Adesso. Adesso. Di qua. No, devo arrivare dall'altra parte. Come cacchio. Ah, perfetto. Poi. Qui. E siamo arrivati. Eccoli. Eccoli. Siamo maledetti. Muoio di paura. Che facciamo? L'uccidiamo? Aspettate un po'. Ce l'ho i... Arnese al curare. Ok. 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 Vai. Vediamo un po'. I contrabbandieri hanno con sé oggetti utili come armi piccole, dimensioni e munizioni. Cosa è vero? Forza! È pericoloso qui! Segui la pattuglia senza essere individuata. Ok. Piano. No! E già stai a fare una cretinata. Di qua. Bene. Sali. Oh cacchio. Guarda quanti sono. Stanno lì. Eh, lo so. Ma da dove cacchio? Oh, oh, oh. Piano. Eh. Ma come individuata? Come? Ma dai! Dove cavolo vado? Non c'è san punto dove poter saltare. Per una volta che stava a fare tutto bene. È vero! Forza! È pericoloso qui! Non trovo altri... Aspetta, dall'altra parte forse. Passa di qua. Di qua. No. No. A ridaglie! Dove cacchio passo? E l'ho capito che stanno là. Però dove cavolo vado? Aspetta. Eh. Non trovo... Scusa, eh. Ma se io mi abbasso, scendo... Dite che ci vedono? Ok. Piano così. Vediamo, eh. Casomai ci dicesse bene. Mica lo so se ci vedono, eh. Ok. Forza, camminate. Ok. No, pensavo ce la dovessimo fare tipo tutta sugli alberi. Però così sembra che vada attenzione e già si stanno a fermare. Un po' di steppaglia mi servirebbe. E adesso ti faccio secco anche a te. Ok. Dai che siamo entrati nell'ottica della... Della missione. No. Chi è che mi ha intituato? Chi? Dai, ma chi? Ma che cavolo? Mannaggia la miseria. Ma che è? Quello se ne va. Ok. 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 Ah, è quello che è scappato. E questa volta occhi bene aperti e niente sciocchezze. Che Dio vegli su di noi. Mamma mia. Li stiamo facendo proprio... Scusate il termine. Cacare sotto. Sì. Però ci sta tutto. Ok. Così ci piace, eh. Che puoi andare sugli alberi. Oh, oh. Piano di qua. Di qua. Andiamo, andiamo, andiamo. No. Di... Oh, e dai. Ecco. Ti pareva che non doveva cascare. Oh, oh, oh. Questi si stanno allontanare. Via di frasca in frasca. Oh, quello sta a camminare troppo, eh. Secondo i miei gusti. Oh, mi sono incastrato. Qua, 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 qua. Ecco che ne ha trovato un altro. Piano. Piano, Evelyn. Dai, ne dobbiamo fare un altro. Ok. Mamma mia, se stanno a panicare come che... Ah, a posto. Ehi, c'è andata di gran lusso, ragazzi. No, pensavo che dovessimo far secchi tutti quanti. Ok, ragazzi. Possiamo fermarci qui che abbiamo completato anche quest'altra sequenza. Aspettate, voglio far secco questo qui. Vieni, 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 vieni. Ehi, bello. Vieni qua. Mamma mia, il macete è ignorantissimo. Che numero. Mamma mia, che ignorante il macete, ragazzi. Non lo utilizzavo da un bel po'. Che spettacolo. Ok, ragazzi. Ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo video con la grandissima Evelyn. E con Assassin's Creed Liberation HD. Con la prossima missione. Così andiamo avanti nella storia. Al prossimo video.